Il settore pain care è tutt'oggi suddiviso in maniera netta tra prodotti e servizi diretti all'ambito ospedaliero da un lato e prodotti per il self care dall'altro. Pain Chronicles nasce con l'intento di unire questi due mondi creando un care management system unico nel suo genere che azeri le distanze tra il sistema ospedaliero e il territorio e facilita la decisione terapeutica dei pazienti. È stata eseguita un'analisi benchmark dei dispositivi in commercio per la cura e la diagnosi del dolore cronico e delle app disponibili per il self care nel panorama internazionale. Da un lato si collocano i produttori di device e servizi tipici dell'ambito clinico ospedaliero e utilizzati per monitorare stati di dolore e sedazione. Dall'altro invece wearable device B2C nati soprattutto per modalità di elettrostimolazione terapeutica domiciliare. Pain Chronicles e Pain Zero si prefigono l'obiettivo di avvicinare questi due mondi innovando la modalità di presa in carico del paziente affetto da dolore cronico.